Vi do il benvenuto a questo ventiduesimo webinar del ciclo Innovazione Digitale. Oggi parleremo di procurement e dei processi di innovazione per le pubbliche amministrazioni e per le imprese, per tutto ciò che riguarda gli appalti e i contratti pubblici. Oggi abbiamo con noi Emanuela Mariotti dell'area di trasformazione digitale di Agit, Fabio Massimi, sempre di Agit e Roberto Reale, sempre dell'area trasformazione digitale di Agit e Albenzio Cirillo della Fondazione Ugo Bordoni. Benissimo, buongiorno a tutti, vedo che state già intervenendo in chat. Vi ricordo che il ciclo di questi webinar dedicati all'innovazione digitale sono organizzati nell'ambito di una convenzione tra Agit e Formats.pa, Italia Login Servizi Digitali. L'obiettivo di questo ciclo è quello di agevolare il lavoro delle pubbliche amministrazioni nel percorso di trasformazione digitale, nonché raccontare le attività che Agit sta facendo nell'ambito del piano trennale e anche di tutte le attività inerenti all'innovazione digitale. Il tema di oggi, l'e-procurement, riguarda la digitalizzazione dei processi di acquisto dei beni e servizi della pubblica amministrazione. Il tema è uno dei driver più importanti delle politiche della Commissione europea ed ha l'obiettivo di semplificare, rendere più efficiente e trasparente le procedure di aggiudicazione e gestione dei contratti pubblici in tutte le sue fasi di pre- e post-aggiudicazione. Quindi le direttive europee chiedono anche all'Italia di svolgere iniziative di ricepire le direttive europee e di svolgere le azioni necessarie affinché venga avviato anche in Italia un processo di procurement. In questo contesto abbiamo il decreto legislativo numero 50, il codice dei contratti pubblici, che ha dato mandato proprio a Agit di emanare delle regole tecniche specifiche a cui Agit ha risposto con una circolare 3 del 6 dicembre 2016 dove vengono definite le regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione. Di questo ci parleranno in dettaglio anche delle attività di Agit i nostri relatori di oggi, Elena Mariotti ci farà una panoramica sulle novità introdotte dal codice degli appalti e della strategia per la riforma del sistema degli appalti pubblici, Fabio Massimi ci parlerà degli indirizzi tecnologici europei in ambito di procurement, Roberto Reale e Albenzio Cirillo ci parleranno dei servizi previsti dall'Unione Europea per l'implementazione del single market, il servizio europeo e-certis e l'integrazione attraverso il progetto Italian Interoperable e Procurement. Vi ricordo che potete porre domande ai nostri relatori tramite la chat, noi le selezioneremo e cercheremo di rispondere a quante più domande possibile nei tempi previsti da questo webinar. Vi ricordo inoltre che la registrazione e i materiali che verranno condivisi dai nostri relatori saranno pubblicati sulla pagina di Eventi IPA, quella dedicata a questo evento, all'evento di oggi, e quindi tramite questo link a breve troverete le slide dei nostri relatori, nonché la registrazione probabilmente dal pomeriggio. Quindi direi a questo punto appunto di avviare il webinar e chiederei alla prima relatrice di oggi, Emanuela Mariotti di Agit, dell'area Trasformazione Digitale, di attivare il proprio microfono e la propria webcam in modo da cominciare a entrare nel vivo del tema di oggi. Buongiorno Emanuela. Mi sentite? Ok, chiedo alla regia di condividere le slide e appunto possiamo avviare. Emanuela, puoi cominciare? A te la parola. Buon webinar. Grazie, grazie a Michela. Buongiorno a tutti quanti. Io sono Emanuela Mariotti di Agit, dell'Ufficio Trasformazione Digitale e mi occupo in tale ambito di e-procuramento. L'obiettivo del mio intervento è quello di offrire una panoramica generale sulle principali novità introdotte dal Codice degli Appalti soprattutto in ambito di innovazione digitale. L'intervento si suddivide concentralmente in due parti. La prima dove viene effettuato un escurso su quelli che sono stati i passi che hanno portato alla definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici per passare ad una seconda parte in cui vengono definite più dettagliatamente le varie modalità di attuazione in ambito nazionale del sistema di e-procuramento. Per parlare di normativa in termini di contratti pubblici è necessario ampliare il contesto di riferimento e definire quella che è la visione europea del mercato unico di accesso ai servizi digitali. Che cos'è il mercato unico dei servizi digitali? È una visione europea che è stata concepita proprio per garantire quella parità di accesso a tutti i prodotti e servizi digitali per far sì che tutti i cittadini, le imprese e i governi europei possano usufruire e beneficiare di quelli che sono gli strumenti messi a disposizione dalla rivoluzione digitale. Possiamo quindi pensare al mercato unico come ad uno spazio comune condiviso privo di tutte quelle barriere che ostacolano l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali. Si capisce l'importanza che l'unione ha verso l'applicazione e l'attuazione del mercato in quanto gli studi mostrano che proprio questa libertà di movimento in questo spazio senza ostacoli può apportare un contributo significativo all'economia europea e creare nuovi posti di lavoro. La strategia per il mercato unico comprende una serie di iniziative e di azioni che si possono condensare su tre filoni principali, quello di migliorare l'accesso a beni e servizi digitali in tutta Europa, quello di creare un contesto favorevole affinché possano svilupparsi le reti digitali e servizi innovativi e quello di massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale. È in questo contesto proprio che si inserisce la digitalizzazione degli appalti pubblici che rappresentano da fonti della Commissione europea, rappresenta circa il 19% del PIL dell'Unione Europea con una spesa annua pari a più di 2 miliardi da parte delle amministrazioni e quindi in questo senso rappresenta ovviamente una delle leve prioritarie per l'attualizzazione del mercato unico dei servizi digitali. Questo ha portato ovviamente questa visione, ha portato ovviamente la Commissione a rivedere il quadro normativo afferente agli appalti pubblici, ridefinendone uno nuovo, chiaro e unitario in modo da dare una dimensione degli appalti legata al nuovo mercato digitale europeo, al fine di scongiurare quel rischio della frammentazione del mercato stesso dovuta all'incompatibilità dei sistemi e delle norme diverse utilizzate da vari stati nell'ambito degli appalti elettronici. Quindi si è giunti pertanto alla definizione a livello comunitario delle direttive sui contratti pubblici, le direttive del 2014, la 23, la 24 e la 25, che hanno portato al ripresepimento che sono state recepite in Italia con il decreto legislativo 50 del 2016, il cosiddetto codice dei contratti pubblici, la cui strategia era stata inserita nel piano d'azione nazionale appalti pubblici allegato all'accordo di partenariato Italia-Europa del 2014 e del 2020. È importante osservare come la Banca Mondiale stima che l'innovazione digitale apportata da questa riforma dei contratti pubblici produrrà risparmi compresi tra il 6 e il 13% sul totale della spesa pubblica. Ai fini di capire il valore e l'importanza che la normativa ha introdotto è utile avere una visione complessiva del processo d'acquisto, processo d'acquisto che si articola in tre fasi principali, in tre macrofasi, che sono quelli della pubblicazione, del svolgimento della gara che vero e proprio, che si compone di varie sottoattività che vanno dall'offerta dall'istituzione della commissione di gara, per arrivare sino poi alla giudicazione della gara stessa e la stipula del contratto. Questo scenario, questo processo di acquisto si completa con delle fasi iniziali, la fase di aggiudicazione che è quella relativa alla raccolta dei fabbisogni e di programmazione della spesa pubblica e ad una fase post-aggiudicazione relativa alla definizione di tutto il ciclo dell'ordine, di fatture e di pagamento. Quindi è importante notare come la normativa abbia introdotto questa sostanziale novità, cioè di rendere obbligatorio l'utilizzo degli strumenti IST nelle diverse fasi di questo processo. Vengono qui elencati una serie di disposizioni presenti nel codice dei contratti, un elenco di queste disposizioni che obbligano l'utilizzo degli strumenti IST in queste fasi del processo. L'articolo 72 prevede la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara in formato elettronico, l'articolo 74 che prevede l'accesso per via elettronica ai documenti di gara, l'articolo 85 che prevede l'utilizzo del documento di gara unico europeo che è l'autodichiarazione utilizzata dagli operatori come prova preliminare, da utilizzarsi in formato esclusivamente elettronico. L'articolo 88 che prevede l'utilizzo del registro online e certis, che è un sistema elettronico messo a disposizione dalla Commissione europea per effettuare una mappatura dei certificati equivalenti tra gli Stati membri. L'articolo 40 che prevede l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica per tutti gli scambi e le comunicazioni che avvengono nell'ambito delle procedure di acquisto e negoziazione. Da tutto questo impianto normativo messo a punto dal nuovo codice dei contratti possiamo pertanto dire che le procure a vento pubblico si sostanzia essenzialmente nell'utilizzo degli strumenti informatici e telematici sia nelle diverse fasi del processo di acquisto che anche nel svolgimento di tutte quelle attività adesso correlate e che concorrono alla realizzazione dell'integro ciclo di vita degli acquisti. Vediamo ora come si è attuato il percorso e quali sono le modalità di attuazione in ambito nazionale del sistema di e-procurament. Per farciò ripartiamo da quelli che sono gli obiettivi dell'e-procurament stesso che si possono sostanziare essenzialmente in questi due obiettivi. Il primo l'accelerazione della digitalizzazione dei processi di acquisto per consentire di raggiungere una percentuale vicina al 100% per le pubbliche amministrazioni di poter effettuare le transazioni di acquisto in modalità digitale. Il secondo obiettivo è quello della digitalizzazione, di arrivare alla digitalizzazione dell'intero processo di e-procurament. Il raggiungimento di questi obiettivi così sfidanti richiede una forte collaborazione tra tutti i diversi soggetti coinvolti, sia pubblici che privati e l'attivazione di varie strategie e strumenti proprio per governare tutti i piani di sviluppo afferenti all'e-procurament. In tal senso fa riferimento all'articolo 212 del codice dei contratti che ha previsto l'istituzione di una cabina di regia e quindi di una struttura organizzativa dedicata proprio alla governance dell'e-procurament. Il modello strategico di evoluzione del sistema nazionale di e-procurament è stato anch'esso inserito nel piano triennale per l'informatica 2017-2019, approvato con DPCM del 31 maggio 2017. Nell'ambito di tale documento è definita la compropia quale infrastruttura immateriale nazionale di e-procurament che interconnette in modalità interoperabili a tutti gli attori del processo di acquisto in modo da garantire a tutta la pubblica amministrazione la gestione e la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita. Il conseguimento degli obiettivi sopraindicati richiede una serie di azioni che si articolano prevalentemente su due linee di intervento che sono l'interoperabilità tra i sistemi e dati coinvolti e la digitalizzazione delle procedure. L'interoperabilità tra i sistemi e dati coinvolti applica il principio del ONS-HOLLY Principle che prevede la possibilità di inserire la stessa informazione ed eseguire la stessa azione una sola volta nel corso dell'intero processo. Vorrei far riferimento proprio per l'interoperabilità dei sistemi e dati coinvolti alla circolare AGID, la circolare numero 3 del 2016, recante regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e negoziazione e che rappresenta il primo riferimento, il framework di riferimento per l'interoperabilità e la cooperazione del sistema di procurement. La digitalizzazione delle procedure è l'altro asset importante di intervento, a questo proposito ricordo l'articolo 44 del codice digitalizzazione delle procedure che prevede la pubblicazione di un decreto ministeriale in cui definire le varie modalità di digitalizzazione del processo individuando quelle norme tecniche per lo sviluppo e la conduzione dei sistemi che ne costituiscono il supporto telematico. Viene qui rappresentata, diciamo, si può rappresentare a livello ovviamente puramente semplificativo e non esastivo il modello di cooperazione e di riferimento del sistema di e procurament. Sistema inteso quindi come un insieme di regole di funzionamento, di processi, di modelli semantici, di standard, di sistemi telematici, di banche dati che concorrono alla gestione in modalità digitale dell'approvvigionamento pubblico. Con riferimento a tale modello volevo un attimo fare un focus su uno degli elementi di tale modello che è la banca dati degli operatori economici. Banca dati degli operatori economici istituita ai sensi dell'articolo 81 del codice dei contratti che ha l'obiettivo fondamentale di semplificare il processo di verifica a carico della stazione appaltante, di semplificare quel processo di verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori economici per la partecipazione ad una gara. Dal punto di vista architetturale la B2E si configura più che come una banca dati vera e propria, come uno snodo informativo in grado di garantire quel colloquio tra le stazioni appaltanti che devono effettuare la verifica e tutti gli enti certificatori, detentori dei dati utili a tale verifica. È utile ricordare che le regole tecniche e gli schemi adottati nel modello derivano dalla diretta applicazione della normativa europea in materia di e-procurament svolta nell'ambito del comitato di standardizzazione europeo, il CEN, di cui poi ci sarà un approfondimento nel corso degli interventi successivi. È utile ricordare inoltre che tra una delle principali misure economiche a supporto della realizzazione di tale modello è data dalla partecipazione dell'Italia ai vari progetti europei, in particolare riferisco al programma CEF. Questo è un elenco di quelli che sono i progetti ai quali stiamo partecipando, in particolare il primo, IAIGOR, si è da poco concluso ed è stato attivato successivamente, ed è stato da poco attivato IISI che possiamo considerare come il suo naturale evoluzione e che riguarda l'adeguamento del processo nazionale di fatturazione elettronica verso l'APA al fine dell'adozione del formato di fatturazione elettronica europea e che quindi nella visione complessiva del processo di acquisto digitale è quella che è la fase cosiddetta di post award. Nel corso degli interventi successivi di questo webinar saranno approfonditi gli argomenti relativi agli altri progetti CEF qui presentati. Ringrazio tutti quanti per l'attenzione e con questo concludo la mia presentazione. Benissimo, grazie Manuela per questa panoramica. Allora, una domanda che è arrivata in questo momento riguarda il MEPA e chiedono come si introduce il MEPA in questo contesto. Il MEPA in questo contesto è già stato nell'ambito del codice dei contratti come procedura di negoziazione in modalità elettronica. Il MEPA è inserito in tutto il processo di acquisto come una delle varie procedure e quindi dovrà tener conto nelle interazioni con gli altri sistemi e altri enti coinvolti di quelle che sono tutte le regole di interoperabilità e di cooperazione che sono state definite nel modello generale. bellissimo. Allora, poi chiedono la B2E di cui hai parlato, è già stata istituita? Allora, la B2E è prevista all'istituzione nell'ambito dell'articolo 81 del codice e in dell'ambito è prevista anche l'emissione di un decreto da parte del Ministero dell'infrastruttura dei trasporti che è di prossima pubblicazione ed è quello che istudierà ufficialmente la B2E. Nel frattempo si sta lavorando alla realizzazione e in questo senso c'è un accordo tra l'agid e il MIT, secondo il quale la B2E è stata progettata e realizzata in accordo a quelli che sono i dettagli del codice dei contratti, la realizzazione è a carico di agide e la gestione sarà ovviamente a carico del MIT. Benissimo. Un'ultima domanda arriva da Stefano Roncaglia e chiede, non gli è chiaro cosa viene richiesto alla scadenza di ottobre? È necessario adottare un portale apposito per la gestione del processo di acquisto o con la pubblicazione sul sito web istituzionale del materiale della gara e comunicazione via PEC, siamo a posto? Diciamo che l'importante è che anche le comunicazioni via PEC rientrano in questa accezione, come comunicazione elettronica. Il processo ovviamente sarà integrato quando saranno definite, saranno pronti tutti i sistemi di cui potranno disporre le varie stazioni appaltanti e sui quali effettuare il loro processo di acquisto e negoziazione. Va benissimo, va bene Emanuela, grazie per il tuo intervento. Allora direi a questo punto di passare la parola a Fabio Massimi che ci parlerà degli indirizzi tecnologici europei in ambito di procurement, c'è un veloce cambio di postazione. Benissimo, allora chiedo alla regia di condividere le slide di Fabio Massimi e ok, a te la parola e grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Fabio Massimi, lavoro qui con i colleghi che ci accompagneranno in questo webinar alla digitalizzazione dei contratti pubblici e alla gestione dei progetti coordinati da Agit che appunto mirano alla innovazione delle procedure di acquisto e negoziazione. nella mia presentazione farò un spero breve scursus sugli indirizzi tecnologici che sono definiti a livello europeo e su come in Italia ci stiamo muovendo sia per recepire questi indirizzi sia per contribuire in modo attivo alla definizione delle linee guida che vengono stabilite a livello europeo. Come già introdotto dalla collega Emanuela, la visione europea è quella di creare un mercato aperto e integrato dove le soluzioni interoperabili per la digitalizzazione dei contratti pubblici sono un fattore abilitante. Questo cosa significa? Significa che naturalmente l'Unione europea è formata da vari stati membri, ci sono problemi, barriere dovute alla lingua, barriere dovute alla legislazione nazionale, quindi le politiche della Commissione mirano a far sì che i sistemi informativi siano un elemento collante tra le diverse realtà dei paesi. Questo vuole dire che a livello europeo si definiscono delle regole tecniche, degli indirizzi tecnologici per far sì che i sistemi di ogni paese membro possa dialogare e in questo modo operatori economici possono accedere a mercati di altri paesi e viceversa avremo operatori economici di altri paesi che accedono al mercato nazionale. Molto brevemente quali sono gli indirizzi dati dalla Commissione, dall'Unione europea? Li ha già introdotti Emanuela, abbiamo le tre direttive sui contratti pubblici, c'è una quarta direttiva che è la 55 2014 che è sempre una direttiva sui contratti pubblici che introduce uno standard di fatturazione unico a livello europeo, non dimentichiamo che l'Italia naturalmente ha recepito le direttive sui contratti pubblici con il nuovo codice, è in fase di recepimento della direttiva sulla fatturazione elettronica che dovrebbe essere entro novembre, sarà pubblicato un decreto che stabilirà come in Italia potrà essere utilizzato lo standard europeo di fatturazione, non dimentichiamo che l'Italia ha l'implementazione di fatturazione elettronica più importante a livello europeo, quindi in Italia dovremmo far convivere la fattura europea con il nostro processo già consolidato e non dimentichiamo che nel processo di procurement end to end, quindi dalla definizione del fabbisogno fino all'esecuzione della fornitura vera e propria, c'è un tassello importante che riguarda l'ordine, in Italia in anticipo rispetto agli altri paesi europei abbiamo introdotto nell'ultima legge di bilancio anche la digitalizzazione degli ordini d'acquisto, questo cosa significa? Che in Italia con la digitalizzazione dell'ordine, anche qui c'è un DM che è in fase di emanazione, digitalizzazione dell'ordine, digitalizzazione della fattura e digitalizzazione dei pagamenti, di fatto siamo vicini a una completa digitalizzazione di quello che noi chiamiamo post-world, quindi della fase di esecuzione della fornitura e da questo punto di vista siamo un passo avanti rispetto agli altri paesi europei. Questa è la timeline che noi in ufficio abbiamo appesa dietro la scrivania, dove sono indicate le date principali di questo processo di innovazione, vedete che sono tre linee di scadenza abbastanza fitte, nella parte in rosso, quella più in alto, vedete che c'è una scadenza che già abbiamo superato, che è quella del 18 aprile 2018, io vi dico solamente le principali, non parto da quelle più vecchie, perché in realtà già ad aprile 2016 con l'emanazione del codice dei contratti pubblici, di fatto sia la pubblicazione che l'accesso ai documenti di gara deve avvenire in modalità elettronica. Abbiamo una scadenza che è stata appena superata, che è quella dell'introduzione del documento di gara unico europeo in formato elettronico, poi i nostri colleghi più tardi illustreranno cos'è il documento di gara unico europeo, di fatto è l'autocertificazione che il fornitore deve presentare in fase di offerta. Questo documento di gara unico europeo è elettronico e nel progetto ISPD stiamo definendo un formato XML che dovrà essere adottato ai sensi di una circolare che sarà emanata dal MIT, quindi che vuol dire? Vuol dire che al momento il di giù è solo elettronico. In Italia stiamo facendo un passo in più, oltre che essere elettronico lo definiremo in formato XML in modo tale che questo documento di gara unico europeo sia una specie di passaporto che un fornitore può utilizzare sia in Italia sia negli altri paesi europei. Naturalmente la deadline più importante è quella del 18 ottobre 2018 che introduce l'obbligo di comunicazione elettronica nelle procedure di gara. Questo cosa significa? Significa che di fatto in tutte le fasi della procedura di gara, fino alla giudicazione, l'obbligo delle direttive e del codice non riguarda l'esecuzione della fornitura ma solo fino al momento della giudicazione, tutte le comunicazioni dovranno avvenire in modalità elettronica, una disposizione piuttosto generale che però ha delle implicazioni non banali, perché di fatto in tutte le fasi, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e il fornitore deve avvenire in modalità elettronica. Questo fa sì che per gli step più delicati in cui le informazioni devono essere riservate, bisognerà adottare dei protocolli adeguati. Molto brevemente, l'indicazione che poi è stata data anche dal piano triennale è quella che le stazioni appaltanti debbano dotarsi di una piattaforma. Sul mercato ci sono molte piattaforme, soprattutto quelle gestite dai soggetti aggregatori, quindi da entità pubbliche, ci sono anche piattaforme di mercato fornite da fornitori di software, però l'indicazione data dal piano triennale è quella di utilizzare una piattaforma, perché gestire le comunicazioni elettroniche magari solamente con la PEC, sentivo, ascoltavo la domanda di poco fa, non è sufficiente per essere adempienti alla normativa riguardo i contratti pubblici. Nelle due timeline più in basso abbiamo la fatturazione elettronica, sia per quanto riguarda la nostra fattura italiana, sia per quanto riguarda l'adozione della fattura elettronica europea. Come saprete la fatturazione elettronica, la normativa nazionale prevede un'estensione dell'obbligo di fattura anche nel settore privato a partire dal 1 gennaio, perlomeno questo a normativa attuale. Una deadline importante è quella, mentre questa è una scadenza nazionale, una scadenza che invece è europea, che è già fissata e che è inderogabile, è quella dell'adozione della fattura europea a partire da aprile 2019. Questa è una disposizione della direttiva 55, quindi ciò vuol dire che da aprile 2019 un operatore economico non italiano, ma anche quello italiano perché sono equiparati, potranno utilizzare un unico standard per inviare fatture alle pubbliche amministrazioni di tutta l'Unione. Quindi in Italia noi abbiamo il fattura PA, però da aprile sarà possibile utilizzare questo formato di fattura europea sia in Italia che verso l'estero. Stiamo lavorando al momento per il DM di ricepimento. Qui abbiamo gli step fondamentali, questa è l'attività che in gran parte è stata coordinata da Agid e che appunto ci porterà alla digitalizzazione e all'innovazione dei contratti pubblici. Siamo partiti nel 2014 dopo l'esperienza molto forte sulla fatturazione elettronica PA e abbiamo contribuito, l'Italia è tra i contributori, nelle attività di standardizzazione a livello europeo sia per quanto riguarda la fattura elettronica sia per quanto riguarda gli standard nel public procurement. Ci sono due comitati tecnici presso il CEN che è l'ente di standardizzazione europeo, il 434 e il 440 che definiscono appunto gli standard, uno per la fattura e l'altro per l'e-procurement end to end, quindi partendo dal bando di gara fino alla fase di ordine. A livello nazionale c'è un documento programmatico che è la strategia crescita digitale che appunto è l'implementazione italiana dell'agenda digitale europea, in questa strategia se voi andate a vedere già dal 2014, giugno 2015 poi è stato aggiornato questo documento, c'è un forte commitment sulla parte di digitalizzazione dei contratti pubblici sia per quanto riguarda le gare, sia per quanto riguarda l'esecuzione e già sono indicati quali sono gli standard e i protocolli che devono essere implementati dai sistemi su cui le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici dovranno lavorare. Naturalmente il passo successivo, il ricepimento delle direttive sui contratti pubblici, Emanuele ha già ce le raccontate, regole tecniche per l'interoperabilità dei sistemi di procurement, queste sono la circolare 3 2016, in questa circolare di fatto già descriviamo quello che era stato appena enunciato nella strategia crescita digitale e si danno indicazioni su quali sono gli strumenti da utilizzare, che le piattaforme dovranno utilizzare. Di fondamentale importanza sono stati i progetti CEF Telecom, come diceva Emanuela, la Commissione europea non dà solo indirizzi di tipo normativo, ma fornisce anche un accompagnamento di tipo tecnologico con i gruppi di lavoro e i comitati di standardizzazione che fra poco vi illustrerò e naturalmente fornisce delle forme di finanziamento, a cui in Italia noi abbiamo attinto in maniera abbastanza ampia, di fatto l'Italia insieme alla Spagna sono i due paesi che hanno avuto più fondi da questi programmi di finanziamento. Di fondamentale importanza è il piano trennale per l'ICT, nel piano trennale ci sono due schede che indicano come le pubbliche amministrazioni devono indirizzare la propria spesa in ambito ICT proprio per far evolvere i propri sistemi, quindi una spinta nell'investimento della pubblica amministrazione sulle piattaforme, i procurement parte negoziazione e anche una forte spinta all'integrazione del ciclo dell'ordine, quindi anche a questo punto, come avevo detto prima, ho detto appena poco fa, l'Italia è molto avanti, quindi l'ordine è in fase di definizione come regole tecniche, la fattura è già in corso, quindi le pubbliche amministrazioni sono invitate a investire su questi aspetti. Dal giugno 2017, questo è un altro step fondamentale, Agit è diventata Peppol Autority per l'Italia e la scelta che è stata fatta in Italia è quella di aderire a un circuito europeo già piuttosto diffuso e consolidato, in realtà questa Peppol nasce da un progetto flagship che è partito nel 2009, mi sembra se non erro, si è molto preso piede soprattutto nei paesi nordici, ma implementa di fatto, forse l'unica implementazione rilevante di tutte le indicazioni date a livello europeo riguardo l'interoperabilità di sistemi con particolare riferimento all'e-procurement, quindi l'Agit sta coordinando i soggetti italiani in questo ambito e naturalmente c'è una forte collaborazione sia con Consip che Intercenter che è il soggetto che si occupa di contratti pubblici per la regione Emilia-Romagna. Infine ecco l'EDM sulla digitalizzazione delle procedure di acquisto che ancora non ha visto la luce, su cui però noi abbiamo lavorato già da tempo, è un DM, è una disposizione che spero esca presto, chiarendo molti dei punti che i sistemi dovranno implementare per far sì che le procedure di gara siano effettivamente digitali e efficienti. Questo schema indica quali sono gli standard, le regole tecniche su cui stiamo lavorando e che i sistemi dovranno implementare. Come vedete a partire dalla pubblicazione del bando di gara fino al passo fattura c'è una parte di standard che viene definita a livello europeo. Come dicevo precedentemente, stiamo lavorando nel TC 440 e 434 per definire le regole tecniche. La regola tecnica del 434 che riguarda la fattura elettronica è già stata pubblicata, quindi è una regola tecnica già esistente e di fatto è quella che viene indicata dalla direttiva 55 per essere adottata dalle stazioni appaltanti dell'Unione Europea. Nella fase di aggiudicazione delle gare ci sono anche alcuni gruppi europei e gruppi di lavoro europei che definiscono le regole tecniche, in particolare sono state definite le regole tecniche per la trasmissione dei bandi di gara al TED, quindi per la pubblicazione dei bandi di gara a livello europeo. Sono state definite le regole tecniche e anche i servizi riguardanti l'ICERTIS, poi vedremo come queste regole tecniche sono state implementate in Italia, le regole tecniche riguardo il documento di gara unico europeo e quello che è il Virtual Company dossier. Mentre il documento di gara unico europeo è un'autocertificazione, il Virtual Company dossier di fatto è il dossier che raccoglie tutte le evidenze e i certificati che comprovano l'autodichiarazione dell'operatore economico. Questo oggetto, su questo oggetto, gli oggetti che vedete in verde più chiaro sono oggetti su cui si sta ancora lavorando, mentre quelli in verde scuro sono quelli che hanno una regola tecnica già consolidata che stiamo implementando, questo oggetto ci si sta ancora lavorando, diciamo che è un passo ulteriore oltre l'autocertificazione. A livello più basso vedete Peppol, Peppol è l'implementazione di tutto quello che sta ai livelli superiori, quindi nell'ambito del consorzio Peppol l'Italia sta lavorando per poi far sì che queste regole tecniche si vengano adottate e si riesca a sviluppare sistemi che siano standard e che possano dialogare con i sistemi degli altri paesi dell'Unione. in particolare sulla parte di digitalizzazione della gara siamo un pochino indietro da questo punto di vista, mentre per l'esecuzione della fornitura di fatto la parte implementativa è in una fase molto avanzata, tanto che l'ordine di cui stiamo aspettando il DM attuativo per l'ordine d'acquisto sarà già un ordine d'acquisto in formato Peppol e quindi già pronto per essere interoperabile con gli altri paesi dell'Unione. Tra le forme di accompagnamento della Commissione europea non ci sono solo gli standard, viene fatta un'attività che è di accompagnamento dal punto di vista tecnologico, ciò vuol dire che per tutti gli standard, le regole tecniche che ho citato poco fa, in realtà a livello europeo sono stati definiti dei servizi e dei software, quindi sono disponibili software open source piuttosto che piattaforme per un self assessment, quindi per capire quanto il proprio sistema è lontano dall'adozione degli standard europei, che accompagnano soprattutto chi è che deve realizzare sistemi informativi nel adottare queste regole tecniche e questi standard. è stata fatta una grossa operazione di investimento da parte della Commissione europea, in particolare gli oggetti su cui noi stiamo lavorando in forma maggiore è la parte di delivery, quindi di trasmissione dei documenti e dei dati e la parte di fatturazione elettronica e per questi due tasselli dei sistemi informativi europei sono stati stabiliti dei protocolli e sono stati stabiliti anche dei strumenti che possono essere agevolmente riusati nei sistemi informativi nazionali. Su questa slide andrò molto velocemente, nel senso che questo è uno dei paradigmi principali su cui si basa l'architettura europea, è quello che è chiamato il four corner model, questo modello consente a due soggetti che sono dislocati in paesi diversi dell'Unione di scambiarsi i documenti in modo sicuro, questo è quello che viene definito a livello europeo i delivery, l'implementazione principale di questo modello è appunto stata fatta da Peppol e quindi in Italia è utilizzata già da Regione di Romagna, Consip, abbiamo in Italia un numero abbastanza credo intorno ai 15-16 access point, questi access point sono dei nodi che possono dialogare con altrettanti nodi che sono sparsi a livello europeo, il problema di questa architettura è che naturalmente tutti i soggetti coinvolti, vedete sender, c'è chi invia, receiver, chi riceve, devono adottare sicuramente lo stesso standard a livello di trasmissione, ma anche lo stesso modello dei dati, c'è lo stesso tracciato, quindi il lavoro che stiamo facendo prevalentemente in Peppol è quello di far sì che i nostri sistemi utilizzino tutti gli stessi tracciati e adottino questo livello di comunicazione in modo tale che i nostri sistemi possano dialogare con i sistemi che sono attestati sugli altri nodi a livello europeo. Questo è un po' il filo conduttore dal punto di vista architetturale che lega tutti i progetti CEF che abbiamo coordinato come Agit, quindi di fatto sia nel progetto Iaigor che riguarda la fattura, sia nei progetti di Procurement, questa cosa ancora, nei progetti avviati ancora in una fase embrionale, ma nel prossimo progetto di Procurement introdurremo gli delivery Peppol anche per quanto riguarda le gare. Peppol, questo è uno spot per Peppol, questa è la mappa che indica la diffusione di Peppol a livello europeo, le stelle indicano il fatto che sia presente una Peppol Autority, la Peppol Autority è l'autorità che di fatto accredita gli operatori, gli intermediari, i service provider che consentono l'accesso alla rete Peppol. Come vedete c'è sicuramente una preponderanza dei paesi nordici, l'Italia è di fatto l'unico paese mediterraneo grande che partecipa e anche il consorzio si aspetta da noi un contributo rilevante, nell'ultimo periodo anche complice l'adozione della fatturazione elettronica europea il consorzio si sta ampliando, di fatto anche uno degli stati, qui è scritto la Germania, ma uno degli stati federali tedeschi adotteranno Open Peppol per la fatturazione elettronica B2G, perché la fatturazione B2G diventerà obbligatoria al lato pubblica amministrazione, ovvero se la pubblica amministrazione non potrà rifiutare la fattura elettronica da aprile 2019, quindi di fatto è un obbligo che impatta sulla pubblica amministrazione e questa fattura deve essere conforme a un unico standard, quindi per adempire a questo obbligo molti paesi stanno affacciando, stanno adottando i protocolli Peppol. Sulla parte di finanziamento, credo che Emanuela abbia già detto praticamente tutto, abbiamo un progetto approvato e concluso che era il progetto Iaigor, il primo progetto su fatturazione, abbiamo due progetti in corso che sono i Certis e SPD, di fatto la seconda parte di questo webinar è concentrato sui Certis, appena ieri abbiamo superato un primo step di collaudo con la Commissione Europea, è partito a maggio la seconda parte del progetto Invoicing che appunto mira a fare evolvere SD in modo tale che oltre a poter gestire il formato europeo sia pienamente integrato lo SD con la rete Peppol e poi siamo, come vedete è 18 settembre 2018, siamo proprio in fase conclusiva per preparare una nuova proposta sulla fatturazione elettronica e a novembre anche questa ci stiamo lavorando, una nuova proposta progettuale in centrale sull'e-procurement e in particolare sull'adozione del documento di gara unico europeo strutturato in formato XML e sulle gare elettroniche. Allora io credo di aver finito con uno o due minuti di anticipo, eccomi qua. Benissimo Fabio, grazie, grazie mille per questa panoramica. Allora sono arrivate alcune domande in chat, allora la prima chiedeva se questo schema che penso sia quello della slide 6 se non sbaglio, 5 e 6, se vogliamo possiamo anche tornare indietro, vale anche per gli affidamenti ridiretti e in più chiedono anche se gli affidamenti diretti seguiranno sempre la procedura digitale. Allora, questa è una bella domanda, è sugli affidamenti diretti digitali, di fatto l'obbligo è sulle procedure di gara sopra soglia perché le direttive... Allora, di fatto le comunicazioni elettroniche devono essere applicate in base agli obblighi, degli obblighi di direttiva, la direttiva di fatto le introduce solamente per le procedure di gara sopra soglia. In Italia abbiamo fatto un recepimento che estende gli obblighi europei, quindi ci sono alcuni aspetti, di fatto non è ancora prettamente definita, per esempio il documento di gara unico europeo ancora non è ben chiaro se si debba utilizzare per le procedure sopra soglia o sottosoglia, di fatto è obbligatorio sicuramente per il sopra soglia, per il sottosoglia ancora non è chiaro se si possa utilizzare, quindi c'è un'adozione è sicuramente per il sopra soglia. Per il sottosoglia alcune procedure potrebbero essere implementate in modo digitale a macchia di leopardo. Questo però, questo aspetto di incertezza viene superato utilizzando una piattaforma telematica, di fatto utilizzando la piattaforma telematica, senza citare la specifica piattaforma, alcune piattaforme forniscono degli strumenti di procedura telematica per tutte le procedure di acquisto, quindi sia per la parte di affidamento diretto, piuttosto che per sottosoglia, che per il sopra soglia europeo. Benissimo, grazie per i chiarimenti. Un'altra domanda chiede, mi sembra di capire che per il momento è circoscritto all'acquisizione di materiali dichiarato ai fini del programma degli approvvigionamenti ICT, è previsto venga esteso anche gli altri generi di acquisizione mediante i procurement? No, questo non è solo per l'ICT, ma è per tutte le categorie. Quindi il codice è un'applicazione relativa al codice dei contratti pubblici, quindi non solo per gli acquisti ICT, gli acquisti ICT sono una delle categorie, ma anche… Poi c'è Fabio Casanelli che dice che il MIT nelle linee guida sull'utilizzo del DGUE chiede che sia utilizzato per gli affidamenti superiori a 40 mila Euro e in questo caso le stazioni alfattanti si stanno regolando. Come dicevo prima, mi dispiace non poter dare una risposta che sia netta, di fatto l'obbligo è sicuramente per il sottosoglia. Per il sottosoglia c'è uno scenario ancora quasi fluido, perché anche il MIT, c'è una circolare del MIT che riguarda proprio il DGUE che deve essere aggiornata e lì vengono date delle indicazioni, come diceva Casanelli, relativo all'utilizzo per importi superiori a 40 mila Euro. Un'ultima domanda, Graziano Paesani chiede se la fatturazione elettronica non è obbligatoria anche nel caso di affidamenti diretti. La fatturazione elettronica verso Pia? Sì, è quella obbligatoria indipendentemente dalla tipologia della procedura d'acquisto. Benissimo, va bene, allora io direi che per ora abbiamo risposto a tutte le domande, se ce ne saranno altre risponderemo al termine di questo webinar, ringrazio molto Fabio Massimi per l'esposizione della chiarezza. Direi di dare adesso la parola a Roberto Reale e al Benzio Cirillo che ci parleranno dei servizi previsti dall'Unione Europea per l'implementazione del single market, il servizio europeo e-certis e l'integrazione attraverso il progetto IIE, Procurement Interoperable, adesso non mi ricordo l'acronimo. Benissimo, a voi la parola, vedo in questo momento Albenzio Cirillo collegato, quindi adesso cambiamo subito l'etichetta. Benissimo, a te la parola e grazie. Grazie Michele, allora buongiorno a tutti, sono Albenzio Cirillo della Fondazione Ego Bordoni, ormai collaboro con l'Agid da oltre due anni sull'innovazione del processo di Procurement, quindi sulla transazione verso il cosiddetto e-Procurement, per sottolineare proprio la digitalizzazione che riguarda tutti gli aspetti come vi è stato descritto prima anche dalla dottoressa Mariotti. Diciamo che in questo intervento la mia volontà è quella di darvi delle indicazioni in merito a dei certi, in modo tale da introdurre qual è il disegno a grandi linee che caratterizza il framework per il Procurement Digitale in tutta l'Unione Europea. Per descrivere questa cosa partirei innanzitutto dall'introduzione di Certis nell'ambito nazionale, quindi andiamo a vedere che cosa dice il codice dei contratti a riguardo, il codice dei contratti pubblici. Sostanzialmente abbiamo bisogno dei mezzi per la creazione del mercato unico digitale, che è quello che vi hanno descritto prima, abbiamo bisogno necessariamente di qualcosa che ci permetta di avere dei punti di interoperabilità con gli altri mercati europei e Certis effettivamente è proprio uno di questi, perché è un servizio messo a disposizione dalla Commissione Europea che permette di identificare i vari certificati o tutte le altre evidenze che vanno a confermare le caratteristiche che riguardano gli operatori economici che partecipano alle gare di appalto pubbliche nell'Unione Europea. Mi spiegherò meglio poi più avanti, illustrandovi anche il funzionamento di questo servizio di Certis. Innanzitutto capiamo da dove deriva, deriva dall'introduzione della direttiva europea 24 del 2014 che poi è stata recepita nel codice dei contratti pubblici, come molti di voi sapranno, quindi nel decreto legislativo 50 del 2016 e successive modifiche e in particolare Certis viene menzionato in tre articoli. L'articolo 85 che introduce il documento di gara unico europeo, il cui acronimo è DGUE, ma che vi introduco nel contesto europeo viene anche indicato come ESPD, che è l'acronimo di European Single Procurement Document. Questo ve lo dico perché molto spesso sentirete parlare di SPD e dovrete sostanzialmente associarlo al DGUE italiano. L'articolo 86 anch'esso cita i Certis per quanto riguarda i mezzi di prova e l'articolo 88 invece dà proprio delle linee specifiche che riguardano i Certis in quanto si chiama registro online dei certificati ECERTIS. ECERTIS è in stretta relazione con il DGUE, proprio perché per quanto abbiamo detto prima, come è stato introdotto anche dall'ingegner Massimi, il DGUE è un'autodichiarazione basata su un modello di formulario approvato dalla Commissione. Che cosa significa questo? Che la Commissione ha redatto un formulario che comprende genericamente tutti i requisiti che devono essere chiesti agli operatori economici e lo Stato italiano li ha recepiti nella fattispecie tramite le linee guida numero 3 emesse dal MIT il 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di GUE. Ora, che cosa significa questo? Che nel documento troviamo per l'appunto l'indicazione di tutti i criteri che possono suddividersi in criteri di esclusione e criteri di selezione o più nello specifico motivi di esclusione e criteri di selezione a, diciamo, sulla base di quello che è indicato nella normativa nazionale nell'articolo 80 e nell'articolo 83 se non erro, quindi nell'articolo 80 per quanto riguarda i motivi di esclusione e sostanzialmente noi dovremmo avere uno strumento per conoscere come andare a comprovare ciascuno dei criteri che sono richiesti. Quindi già è stato introdotto prima per la parte tecnica lo sviluppo della BDOE, della banca dati degli operatori economici come indicato nell'articolo 81, però quello che è interessante capire è che tutti questi requisiti, tutti questi criteri hanno delle evidenze che devono essere note a livello pubblico e devono essere note a livello europeo. Questo lavoro è svolto dai certis, per cui c'è una stretta correlazione tra quanto c'è scritto nel DGUE e quanto è riportato sui certis, quindi dovrò avere necessariamente una corrispondenza bionivoca tra quello che c'è sul formulario DGUE e quello che c'è sui certis, o più genericamente a livello europeo tra quello che c'è sul formulario ESPD, quindi quello della Commissione Europea e quello che ci sarà sempre sullo stesso registro. Difatti l'articolo 85, che è quello che riguarda il documento di gara unico europeo, dice al comma 8, per il tramite della cabina di regia è messo a disposizione aggiornato sui certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti agli operatori economici che possono essere consultate dalla stazione appaltante di altri stati membri e sono comunicate su richiesta agli altri stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui ho il presente articolo. In questo comma sostanzialmente viene disciplinato l'utilizzo di ecertis come strumento di interoperabilità proprio per venire a conoscenza delle informazioni pertinenti agli operatori economici. Andiamo avanti anche con gli altri articoli che fanno menzione dello stesso registro. Nell'articolo 88 nella fattispecie abbiamo due commi che determinano chi provvede ad aggiornare le informazioni sui certis per quanto riguarda il sistema nazionale e anche in che modalità dovrà essere adottato. Sul primo punto possiamo dire dal comma 1 che è responsabile la cabina di regia che è nominata all'articolo 212 del codice dei contratti per l'aggiornamento delle informazioni e quindi c'è un sistema già in atto per l'editing proprio di quelli che sono i contenuti, i criteri sulla database di certis e delle evidenze associate. Quindi quando parlo di evidenze parlo sempre per l'appunto di quello che prima ho indicato come banca dati inerenti agli operatori, stiamo parlando di quei registri che contengono le informazioni negli operatori. Poi facciamo qualche esempio in modo tale da capirlo con più chiarezza. Il secondo comma dice che le stazioni appaltanti utilizzano i certis e richiedono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prova documentali che sono contemplate dai certis. Questo dà una lettura chiarissima sulla modalità con cui deve essere utilizzato i certis, ossia che in corrispondenza dei criteri che vengono espressi tramite il bando di gara o più nello specifico tramite il formulario di GUE, devono essere necessariamente dei criteri per i quali tramite certis so anche quali documenti o quali evidenze certificati o attestati devono essere forniti per comprovarne il rispetto eventualmente o l'assenza di motivi di esclusione. Esiste poi anche l'articolo 86 che ribadisce la centralità di certis nel determinare le modalità previste da singoli paesi membri dell'UE per recuperare i mezzi di prova. Difatti il comma 3 dell'articolo 86 dice se del caso uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati del GUE al comma 2, che sono quelli che riguardano i criteri di esclusione, non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono ammessi a disposizione tramite e certis. Quindi con questo abbiamo praticamente chiuso tutte le opzioni possibili per la consultazione delle evidenze perché abbiamo dichiarato che anche per quanto riguarda i Stati membri qualsiasi riferimento per individuare le fonti di accertamento di un criterio relativo a un operatore economico devono essere necessariamente specificate sui certis. Quindi questo è sicuramente il motivo principale per la promozione di questo strumento e come potete immaginare da voi è uno strumento che non ha attualmente una situazione statica o a regime, perché per quanto il servizio sia stato sostanzialmente avviato contestualmente alle scadenze imposte dal codice dei contratti e quindi anche dalla direttiva europea, per cui parliamo del 2016, l'impegno per l'appunto come avete visto prima dall'articolo 85, l'impegno per la compilazione dei dati presenti nei certis è demandato chiaramente a ciascun paese membro, per cui ci troviamo in una situazione in cui anche a livello italiano abbiamo indicato la quasi totalità dei criteri presenti sul formulario di GUE e sicuramente ci saranno anche in futuro degli aggiornamenti e degli allineamenti in previsione di quelle che sono anche le modifiche che potrebbero essere introdotte, modifiche che possono essere di allineamento con quello che è il formulario europeo, vi spiego tra poco perché ho fatto questa nota, io innanzitutto volevo, non sapendo se molti di voi sono già a conoscenza di questo strumento, introdurre il servizio molto brevemente, parliamo di Acertis come un web tool principalmente, raggiungibile dal link che vi ho pubblicato nella slide, questo tool l'ho messo a disposizione della Commissione Europea, ha un'interfaccia molto semplice di consultazione che come vedete in un riquadro che ho sottolineato nella slide, nello screenshot, mostra dei filtri di ricerca di criteri o prove, chiaramente lo strumento è fruibile in diversi linguaggi, proprio perché è uno strumento messo a disposizione dalla Commissione Europea, per cui ci troviamo di fronte a una possibilità di ricerca di criteri e di evidenze tramite questi menu in tendina, il cui risultato viene riportato a valle e che ci permette di capire innanzitutto come è organizzato questo registro dei criteri, perché? Noi siamo partiti essenzialmente dalla distinzione tra motivi di esclusione e criteri di selezione e questo ovviamente è un discorso che è ribadito anche all'interno del codice dei contratti, oltre che dalla direttiva europea. Esistono tuttavia anche dei criteri puramente nazionali, questo è ovvio, io ne faccio un esempio qui sotto nella slide, abbiate pazienza, questo è il primo esempio che mi è venuto perché forse è anche il più palese, volevo praticamente illustrare il fatto che se andiamo a ricercare i criteri esiste innanzitutto una diversificazione, una tipizzazione per categorie, per cui avremo i motivi di esclusione legati a condanne penali, i motivi di esclusione legati a insolvenze, conflitti di interesse o lecidi professionali e così via, come pure avremo i criteri di selezione per i sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale etc., e avremo infine i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, perché viene fatta questa distinzione? Che oltretutto rispecchia esattamente quello che c'è nel formulario come suddivisioni in schede all'interno del formulario di GUE, o meglio ancora del formulario europeo, perché effettivamente viene creata una logica di tipologie di criteri e poi di criteri padri e criteri figli, che cosa intendo con questo? Che esiste una possibilità di definire in forma ramificata la dipendenza dei criteri? Sostanzialmente quello che noi individuiamo qui è il nodo principale da cui si diramano il dettaglio dei vari criteri e che ci serve poi per avere una classificazione che come vi spiegherò a breve è importantissimo per l'integrazione con il discorso fatto in precedenza della DGUE. Nella fattispecie qui ho fatto l'esempio dell'infiltrazione mafiosa, l'infiltrazione mafiosa è un criterio puramente nazionale come viene indicato, vedete che oltretutto nello screenshot ho messo esattamente il risultato che troverete facendo la ricerca sul web tool Ecertis. Però quello che volevo farvi notare è che oltretutto è il linguaggio inglese, quindi c'è ancora lavoro da fare anche per l'adeguamento di tutti i vari linguaggi, il lavoro di traduzione, però l'obiettivo adesso è quello di capire il meccanismo di funzionamento, l'evoluzione del framework di e-procurament e capire in che cosa già possiamo utilizzare questi strumenti. Ora, tornando a noi, quindi vi facevo un discorso di dipendenza dei criteri di ramificazione, per cui avremo sicuramente che la tipologia è quella dei criteri che hanno una valenza puramente nazionale. All'interno andremo quindi a identificare un criterio che ha una ramificazione unica che è quello dell'infiltrazione mafiosa, ma se prendiamo altri criteri che sono utilizzati a livello europeo, dovremo necessariamente avere una filiazione per ciascuno degli stati membri e faccio un esempio. Facciamo l'esempio della bancarotta, il criterio di esclusione per bancarotta, che è chiaramente un motivo di esclusione, se lo andiamo a cercare su Ecertis ci riporta queste informazioni, la cosa più importante è che, dato che Ecertis esiste principalmente per mostrare l'evidenza che deve essere fornita per comprovare quello specifico motivo di esclusione, l'assenza o meno del motivo di esclusione in tal caso, in basso a sinistra, non so se si legge nella slide, però l'esempio lo potete ripetere anche voi seguendo il link che vi ho indicato prima, viene riportato che l'evidenza per certificare lo stato dell'operatore economico è certificata dalla Camera di Commercio, quindi sappiamo esattamente che la Camera di Commercio ci deve dare l'evidenza dello stato dell'operatore economico, ma questo in realtà poi presenta tutta una serie di dettagli aggiuntivi, non si ferma qui a Ecertis, perché se poi andate a consultare l'evidenza, perché vi ho detto prima che il criterio si può fare anche dal punto di vista delle prove, non solo dei criteri, la ricerca, sicuramente trovate indicazioni per quanto riguarda anche per esempio se l'evidenza è a pagamento o meno, quindi sono tutte informazioni utili per l'operatore economico, anche per interpretare il criterio che gli viene richiesto e come lo può comprovare, ad esempio per un operatore economico norvegese lo stesso criterio, vedete che adesso ho cambiato slide, riporta che deve essere fornita come evidenza l'output del registro nazionale della bancarotta norvegese, questo ci serve per capire a livello europeo come ciascuno si deve comportare, per cui se parteciperà l'operatore economico norvegese a una gara nell'ambito del criterio di bancarotta, per andare a verificare il suo stato, bisognerà a chiedere a questo registro norvegese qual è lo stato dell'operatore economico, ora chiaramente siamo ancora in una fase preliminare, stiamo creando i presupposti per operare a livello di mercato unico europeo, poi si affineranno sulla base di queste informazioni, di queste direzioni e anche tutti gli strumenti che ne permettano consultazione. Qui un breve accenno del fatto che i certi vi ho mostrato la web application, ma è fruibile anche tramite servizi REST, i servizi REST sono sostanzialmente delle chiamate web service implementabili dalle piattaforme telematiche in back office, perché questo? Perché ho la possibilità tramite la consultazione di questi servizi di consultare alcune delle informazioni presenti nella banca dati certi. Questo servizio è mantenuto la commissione e noi abbiamo pensato un piano che riguarda il framework nazionale delle procure, quindi a livello italiano, che permetta di uniformare la comunicazione tra tutte le piattaforme all'interno del sistema paese. Per questo motivo a breve vi introdurremo IEP in termini di finalità di integrazione di ecertis, ma di questo ve ne parlerà brevissimo il mio collega. L'ultima nota che vi volevo fare prima di passare la parola al mio collega è relativo alla relazione tra ecertis e digioe, diciamo riprendo un po' quanto avevo introdotto prima, però forse adesso che vi ho introdotto gli aspetti principali potete immaginare qual è la relazione che esiste tra un digioe elettronico e quindi il lavoro che vi ho anticipato prima l'ingegner Massimi che stiamo facendo all'interno del progetto CFSPD, quello quindi di dare una struttura di dato al digioe, un dato strutturato significa quindi avere delle informazioni taggate, delle informazioni che sono ricavabili e leggibili da macchina e in questo caso sostanzialmente avremo che i criteri, se associati a un identificativo che poi è contenuto all'interno di ecertis, possono essere facilmente letti dalle macchine e facilmente interagire ad esempio in un futuro prossimo con la B2E per il recupero di tutte quante le informazioni utili come mezzi di prova per l'operatore economico. Per cui questa è la strada, il primo tassello sicuramente all'integrazione con i certis. Detto questo io passerei la parola al collega Roberto Reale che vi parlerà del progetto IEP. Grazie per l'attenzione, eventualmente ci risentiamo dopo per domande. Grazie. Buongiorno a tutti, sono il progetto Reale di Agid, so che l'ora è tarda e non vi ruberò tanto, c'è un minuto ancora, quindi come il mio collega... Scusami Roberto, in questo momento non ti sento bene, se puoi avvicinare un pochino il microfono... Sì, mi sentite meglio? Sì, ok, va bene. Perfetto, perfetto. Quindi come dicevamo, il sistema di certis è un registro dei criteri di gara. Che cosa succede invece a livello nazionale? La normativa prevede che ci sia un sistema di disattoppiamento, un sistema intermedio, un sistema simulico che è gestito dall'opportunità di corruzione, che tra le altre finalità ha quello di rilasciare il codice di gara, ma funziona appunto anche da provider, diciamo... Scusami Roberto, se ti interrompo nuovamente, ma non riusciamo a sentire bene, dovresti mettere proprio il microfono più vicino, si sente gracchiare, non so perché... Proviamo così? Sì, perfetto. Alza un po' la voce. Grazie. Perfetto, grazie a te. Dicevamo, il sistema SIMOG, quindi gestito dall'autorità anticorruzione, tra i vari scopi appunto ha, come dicevamo, quello di rilasciare il codice identificativo di gara, ma ha anche la funzione di funzionare, diciamo, come sistema di disattoppiamento tra il sistema Certis e le stazioni appaltanti. E' qui che si inserisce il progetto IEP, che è un progetto ormai quasi concluso, finanziato grazie ai fondi CEF Telecom della Commissione Europea, e che ha visto Agit come capofila di un raggruppamento di ben 4 altri partner, tra pubblici e privati, in primis naturalmente l'autorità anticorruzione, che è direttamente coinvolta in quanto gestore appunto del sistema SIMOG, Intercenter, che è la piattaforma per i servizi informativi della regione Emilia-Romagna, Consip ed una società privata, inverso. Agit è riuscita ad aggiudicarsi un finanziamento per la realizzazione del progetto e per l'implementazione appunto di, presso SIMOG, di uno strato di collegamento con i Certis. Qual è in sostanza l'obiettivo del progetto IEP? E' appunto la creazione presso SIMOG, quindi l'aggiornamento di SIMOG, che permettesse di avere a disposizione, di mettere quindi in seconda battuta a disposizione delle stazioni appaltanti, in conformità poi alla normativa europea sugli appalti pubblici, i criteri che i Certis mantiene a livello centrale. Quindi SIMOG esce da questo progetto potenziato, in quanto grazie all'interconnessione con i Certis non solo permette agli operatori esteri di partecipare alle gare italiane, ma permette anche di avere un allineamento anche per le amministrazioni giudicatrici italiane sulle gare, un allineamento con i criteri di tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. La timeline del progetto è molto serrata, abbiamo due sezioni implementative, quindi l'evoluzione di SIMOG come dicevamo e l'evoluzione delle piattaforme locali di e-procurement, una fase che si è conclusa il 30 giugno, dopodiché abbiamo concluso ieri, come aveva accennato il collega Massimi, con successo una fase di validazione da parte della Commissione Europea e ci apprestiamo quindi per il 30 settembre a concludere in modo definitivo il progetto attraverso anche delle sessioni di dissemination, di diffusione dei risultati, di cui tra l'altro questo webinar è parte, e con eventi anche dal vivo, sia presso Agile sia presso altre amministrazioni. Insomma il programma tra l'altro degli eventi sarà disponibile, in parte disponibile, ma con alcune date ancora da definire sul sito di Agile. Vediamo brevissimamente l'architettura di EPI, a cui vi avevo già accennato, vediamo che il sistema di certe, il sistema comunitario, è il sistema centrale che contiene i criteri di gara, questi confluiscono attraverso l'interrogazione da parte di SIMOG, dei web service, cui vi aveva accennato il collega prima, quindi l'acquisizione in SIMOG dei criteri di gara europei ed italiani, in primis, e la messa a disposizione, la parte di SIMOG, alle piattaforme appaltanti di questi criteri. Quindi SIMOG, come vi dicevo, funziona come una sorta di centro di smistamento a livello nazionale dei criteri di gara, dal punto di vista dei criteri. Io ho concluso, grazie a tutti per l'attenzione, se avete domande ci siamo. Benissimo Roberto, grazie. Vido, c'è una domanda. Sì, c'è una domanda, e infatti colgo l'occasione per chiedere ai partecipanti di approfittare di questo momento per fare domande in chat che recepiremo. Allora, la prima domanda è di Graziano Paesani, che chiede se il sistema SIMOG espone dei servizi REST che consentano di integrare le informazioni dei SIG all'interno dei portali delle pubbliche amministrazioni. Diciamo che per quel che riguarda l'oggetto di questo webinar, il sistema SIMOG espone servizi web che consentono di accedere alle informazioni dei criteri che SIMOG a sua volta aveva recepito dai certis. Quindi, lo ripeto, SIMOG accede alla banca dati i certis e a sua volta mette a disposizione delle piattaforme appaltanti tramite i servizi REST, ovviamente, e anche tramite, non in questo momento, ma potrebbe essere anche in fase di, potrebbe essere anche, diciamo, oggetto di successiva evoluzione, anche un accesso via web, ma non in questo momento, e le informazioni dei criteri. Inoltre, SIMOG, sempre per quel che riguarda appunto i criteri di gara, offre anche dei servizi aggiuntivi, come per esempio la storicizzazione dei criteri che al momento i certis non prevede. Benissimo, allora chiedo anche agli altri relatori, in questo momento non ci sono altre domande, quindi anche gli altri relatori, se vogliono intervenire per appunto specificare anche dei temi appunto che hanno suscitato interesse, quindi chiedo anche agli altri relatori di attivare o comunque di alternarvi alla postazione. Sì, io volevo solo un attimo approfittare appunto di questo momento per sottolineare che IEP è appunto una storia di successo, perché è stato un progetto finanziato dalla Comunità Europea al 75% e portato, possiamo dirlo, ormai a termine in modo soddisfacente. Comunque passo a questo punto la parola anche ai colleghi, se c'è qualcosa che voglio raggiungere. Grazie a tutti. Grazie mille Roberto per il vostro lavoro e per la chiarezza con cui avete presentato questo argomento. Ecco qua, ritorno io, perché ho visto che la questione sugli affidamenti ha suscitato interesse anche con Emanuela, in realtà non l'avevo ascoltato, ma c'era stata una domanda precisa. Allora, riguardo le comunicazioni, l'articolo 40 è chiaro, nel senso si parla di comunicazioni elettroniche per tutte le procedure definite dal codice. Naturalmente, il fatto che la digitalizzazione deve essere, si applica a seconda della complessità della procedura, quindi cosa significa? Significa che su procedure dove c'è ad esempio una selezione dell'offerta, occorre garantire la segretezza di alcune informazioni. sugli affidamenti diretti, di fatto, la piattaforma potrebbe essere non necessaria, perché alcuni passi possono essere fatti semplicemente, ad esempio, perché Emanuela mi ha detto che aveva risposto che si può fare tramite PEC, in effetti per gli affidamenti di fatto non serve una piattaforma. Ad esempio, anche il DGUE, DGUE nelle direttive era solo per le gare sopra soie, in Italia abbiamo esteso il sottosoglie, che è il MITA corretto, dicendo non sottosoglie, ma non per gli affidamenti. Sulla BDOE, sempre per fare tasselli specifici che vengono applicati in modo differente a seconda della procedura di acquisto. Ad esempio, BDOE, di fatto, sarà a disposizione di tutte le stazioni appaltanti, ma per gli affidamenti diretti le pubbliche amministrazioni potrebbero decidere di non fare delle verifiche attraverso BDOE. Quindi, diciamo, c'è una diversa sfumatura nell'utilizzo degli strumenti elettronici definiti dal codice a seconda della tipologia della procedura. Ok, grazie. Poi, Fabio Cassanelli dice torno alla scadenza del 18 ottobre per l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche nelle procedure di affidamento. Entro quando si prevede di dare indicazioni alle stazioni appaltanti relativamente all'esclusione per affidamenti di modifica entità sotto soglia o sotto 40.000 Euro? Allora, no, in questo caso no, il MIT ha detto che il DGUE non è obbligatorio per gli affidamenti. Poi Danilo... Quindi, diciamo, non credo che cambi nella prossima circola. Danilo Anania chiede delle specifiche DGUE in formato in XML da adottare entro il 18 ottobre quando saranno ufficializzate? Allora, qui forse non so se magari non sono stato chiaro io. In realtà il DGUE è elettronico dal 18 aprile 2018. Elettronico non vuol dire strutturato XML. Il formato XML lo stiamo introducendo perché è uno dei deliverable dei prodotti del progetto ISPD. quindi dal 18 ottobre 2018 non ci sarà l'obbligo di DGUE XML. Ci sarà l'obbligo che già c'era, peraltro, del DGUE elettronico. Poi nel nostro progetto stiamo definendo la struttura. Nella circolare MIT verrà definito quando quella struttura dati dovrà essere utilizzata. Per cui si darà il tempo alle piattaforme di adeguarsi. Quindi l'XML non è una scadenza del 18 ottobre. Ok, non so se c'è una domanda per Roberto, credo. O no? A questo punto forse possiamo volgere alle conclusioni. Non so se qualcuno dei relatori vuole fare qualche riflessione finale. Nel frattempo guardo la chat se c'è qualche altra domanda. Allora, c'è Laura Marongiu, per esempio, dice l'ANAC nelle sue FAQ afferma che il DGUE va richiesto sopra i 20.000 euro. Sì, immaginate che il coordinamento di tutta la documentazione tecnica di linee guida non è banale. Va bene. Allora, io direi che se non ci sono altre domande o qualche relatore se non vuole concludere con qualche riflessione direi che possiamo concludere. E vi ringrazio appunto per aver dato chiarezza a questo panorama appunto riguardante l'e-procurement visto che comunque in chat sono stati apprezzati tutti gli interventi quindi appunto vi ringrazio anch'io per la vostra disponibilità e professionalità e vi saluto e speriamo ci saranno anche altre occasioni per approfondire. Grazie a tutti, grazie anche ai nostri partecipanti sempre insomma fedeli e coinvolti insomma in queste attività che stiamo organizzando relativi all'innovazione digitale grazie anche ad Agile ovviamente. Buona giornata e buon pranzo a tutti alla prossima. Salute. A voi un saluto a tutti.